Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori ci sono 2 km di coda tra Empoli e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze e rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in entrambe le direzioni. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra con restringimenti, per corsi alternativi sulla strada provinciale 12 o per i viaggi più lunghi sull'autostrada 11. Per quanto riguarda le autostrade in A11 in direzione Firenze e code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con l'A1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sul raccordo Siena-Firenze rallentamenti tra San Casciano e Impruneta in direzione Firenze. Qui è in vigore uno scambio di carreggiata. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!